un cuore, un cuore, un cuore e un cuore un cuore un cuore un cuore e un cuore un cuore un cuore ok, ciao Nicando quindi come emozioni si si stai guardando un cuore un cuore fai bene si Я lo si mi piace la mia wow io ho trovato adesso adesso vedete questa scatrice si adesso e te lo vedete si allora è un cuore buon 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 vi saluto Nicando a tutti qua ciao c'è Grazie